Secondo appuntamento per l'Educational Center, l'ente di formazione professionale, con l'Open Day, la giornata dedicata all'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie che dovranno scegliere a breve il percorso da intraprendere per l'anno scolastico 2016-2017. Già lo scorso mese la scuola ha aperto le porte in entrambi le sedi, quelli di Motta Sant'Anastasia e quella di Biancavilla. Oggi è stata nuovamente la volta della sede di Biancavilla. Docenti, studenti e personale amministrativo hanno accolto sin dalle 9 di questa mattina i visitatori e presentato loro gli ambienti e le attività in modo da aiutare i ragazzi e le loro famiglie a fare una scelta consapevole in un momento tanto importante per la loro vita. Tre i corsi formativi che l'Istituto offre, Operatore del Benessere, Operatore dell'abbigliamento e Operatore della Ristorazione. Un vero e proprio showroom preparato per l'evento con un ampio spazio espositivo dedicato alla bellezza e al benessere, con tutto l'occorrente per il trucco e il parrucco, ma anche uno spazio dedicato all'abbigliamento, con l'esposizione dei vestiti realizzati dagli alunni del Corso di Operatore dell'abbigliamento. Tutto allestito dai ragazzi della scuola che si sono cimentati con dimostrazioni pratiche inerenti al loro percorso formativo. A fare da modelli per le dimostrazioni gli alunni dell'Istituto, ma anche i visitatori dell'Open Day, studenti delle terze medie e i genitori. Un'opportunità valida questa per i potenziali iscritti per progettare il loro futuro. Abbiamo il Corso di Operatore del Benessere che comprende sia la lunga ed estetica, abbiamo il Corso di Operatore del Grafico, il Corso di Operatore dell'abbigliamento e il Corso di Operatore della Ristorazione. Sono tutti corsi, come abbiamo già detto, finanziati dalla regione, completamente gratuiti, dove i ragazzi hanno il materiale, la struttura, tutto quello che serve per quanto riguarda la loro formazione fornita dalla scuola. Questi corsi hanno come obiettivi proprio l'acquisizione di competenze tecniche e operative che, a seconda del tipo di corso che viene intrapreso, forma i nostri ragazzi e danno loro la possibilità di poter lavorare sia le dipendenze già di attività che si svolgono e anche per aversi delle attività proprie. Sono state organizzate varie manifestazioni riguardanti la scuola dove i ragazzi hanno potuto dimostrare il talento acquisito e le competenze acquisite, in particolar modo estetica e parrucco, ma anche abbigliamento. Le ragazze sono state in grado già dal secondo anno di corso di realizzare veramente degli abiti molto particolari, sia riguardanti l'alta moda che anche il pret-a-porter, e già dimostrano di aver acquisito delle competenze che le possono portare molto lontano. Da piccola avevo la passione verso la moda, mi è sempre piaciuto ritagliare o fare degli oggettini per le bambole, infatti a volte facevo anche dei disegni dei vestiti e poi li realizzavo insieme a mia zia e quindi ho scelto questo corso perché mi piace tanto e poi mi piace anche realizzare delle semplici cose, e non mi piacciono le cose complicate e quindi a volte mi diverto a realizzare dei vestiti molto semplici per uscire oppure magari da cerimonia così per usare un sabato o una domenica.